Oggi siamo qui per parlare di RFS 18-150mm, un'ottica APS-C per fotocamera mirrorless che mi è stata inviata in prova direttamente da Canon. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni e vi porto la mia esperienza in maniera tale che possa andare a beneficio di tutti. Come detto, nel corso di questo video vi farò vedere qualcosa che è stato girato con quest'ottica e la sto usando abbinata con Canon EOS R10, una combinazione che devo dire sicuramente regala soddisfazioni, molte cose mi stanno piacendo. Oggi andiamo a parlare nello specifico dell'ottica, ma io vi consiglio di iscrivervi perché sto facendo una serie di video su questo kit che mi è stato mandato, quindi se vi iscrivete adesso non rischiate di perdervi quelli che usciranno in seguito e anzi andate a recuperare quelli che sono già usciti. Comincerei con dirvi due parole sull'ergonomia. Allora, l'ergonomia della macchina in sé non è niente male. Parlando della macchina, come potete vedere, per me è un po' piccola. Sono a metà, ho il mignolo che è a metà fuori, quindi per me è un po' piccolina. Però tutto sommato è gradevole la macchina. Ora andiamo a parlare dell'ottica. L'ottica è piccola. In questo caso, come potete vedere, è uno zoom molto piccolo, molto compatto. Sì, quando andiamo a 150 mm si estende un po', però per le capacità che ha, tutto sommato è piccolo. Cioè, come potete vedere, è meno di una spanna. La mia spanna è 22 cm, quindi è un obiettivo abbastanza piccolo. Se lo estendiamo tutto, comunque la mia spanna non la supera. Quindi sarà un 20 cm, tutto esteso, insieme al corpo macchina. Per cui è un obiettivo, dalle grandi prestazioni in termini di escursione focale, però leggero e assolutamente portatile. Essendo piccolo è adatto anche a delle mani non voluminose. Io vi dico che personalmente mi trovo meglio se l'obiettivo è più grosso, perché lo afferro meglio. In questo caso devo lavorare in punta di dita per fare i miei movimenti. Però lo zoom fluido si comporta molto bene. Veniamo subito alla nota dolente di questo obiettivo, che secondo me, lo sapete già tutti, è il diaframma variabile. E che diaframma? Perché qui siamo in presenza di un f3.5 che arriva a f6.3. Quindi che cosa succede? Per chi non lo sapesse, vi invito ad andarvi a recuperare il mio video in cui parlavo di come capire che tipo di ottica stiamo esaminando semplicemente dal nome. Dal nome si capisce già che questo è un diaframma variabile, perché nel nome c'è scritto f3.5 trattino f6.3. Questo significa che se io sto a 18 mm, la mia apertura massima sarà 3.5, se io zoom tutto avanti la mia apertura massima diventa 6.3. Che cosa significa? Che ho perso luce. Estendendo il mio tubo, la luce che riesce a entrare è di meno e quindi perdo luminosità. Come si ovvia a questo problema? Personalmente vi do due soluzioni. La prima soluzione, impostare di default il diaframma minimo. Se io metto la mia macchina a f6.3 e la uso sempre a f6.3, a quel punto è un diaframma fisso, perché anche se io zoom indietro rimane a f6.3 e quindi non ho più una variazione di esposizione nel momento in cui vado a cambiare il mio zoom. Rimane sempre uguale. Rimane sempre a 6.3, quindi è un po' sacrificato. L'altra cosa che possiamo fare è utilizzare la macchina in priorità. E questa è una cosa che io non amo fare. Ogni tanto lo faccio ma non mi piace perché sto delegando alla macchina delle decisioni. Se io metto la macchina in priorità, in pratica le sto dicendo. Per esempio priorità di tempi, le dico che deve scattare sempre a un duecentesimo. Trattandosi di un'ottica come questa, qui è meglio impostare un duecentesimo perché così se vado a 150 rischio meno il micromosso. Quindi un duecentesimo di base e poi posso lavorare serenamente a tutte le focali perché la macchina compenserà automaticamente il cambio di diaframma con anche gli ISO variabili ovviamente. Vado a parlarvi di una feature che a me piace molto su questa combinazione, ovvero il control ring. Control ring che, come potete sentire, è silenziosissimo. Quindi noi possiamo usare il control ring per tutta una serie di cose. Io l'ho impostato e vi invito a darvi a recuperare il video che ho già fatto su Canon EOS R10 su cui vi faccio vedere il menu e come si imposta e come si personalizzano ghiere e pulsanti. Io l'ho impostato per gestire i valori ISO. Quindi che cosa posso fare? Posso gestire i tempi con la rotella dei tempi, i diaframmi con questa seconda rotella e con questo control ring gestisco gli ISO. Quindi con due mani, con una mano gestisco due parametri, con la seconda mano gestisco gli ISO e posso fare la mia esposizione velocissimo senza perdere mai l'attimo semplicemente inquadrando, cambio la mia esposizione e sono subito pronto a lavorare. Quindi control ring è una funzione che è stata aggiunta da Canon sugli obiettivi per mirrorless. Da me personalmente apprezzatissima perché pur essendo una cosa digitalona alla fine perché è tutto elettronico, tutto digitale, tutto motorizzato però a me personalmente per come la uso io va a restituirmi un feeling un po' analogico perché riesco, lasciamo perdere che in analogico gli ISO non si regolavano così ovviamente, però in questo modo io posso gestire tutti i parametri a mano e questa sensazione tattile, questa sensazione di controllo a me personalmente piace molto. Andiamo a parlare di quello che forse a voi interessa un po' di più ovvero la qualità d'immagine di quest'ottica. Qualità d'immagine che vi devo dire non è niente male considerato quello che costa l'ottica e considerato quello che ci dà. Secondo me non è niente male perché con un'ottica come questa io l'ho portata in giro sul lago di Como per esempio e vi faccio vedere un po' di immagini anche a questo proposito con un'ottica del genere noi veramente possiamo andare in giro e abbiamo un tuttofare con cui riusciamo a fare pressoché qualunque cosa. Ma allora vi domanderete come mai non è per me? Come mai non è un'ottica che andrei ad acquistare? Beh, secondo me la risposta risiede proprio nel tipo di utilizzo ovvero personalmente mi sono ritrovato a fare delle fotografie con quest'ottica io non sono abituato a utilizzare delle escursioni focali come queste io di solito uso delle escursioni molto più brevi e di solito anche quando uso uno zoom uso sempre la stessa lunghezza focale io uso il 14-35, uso sempre il 14, uso il 24-70, uso sempre il 70 quindi uso degli zoom però spesso e volentieri li uso quasi come se fossero delle ottiche fisse trattandosi di un'ottica con un'escursione di questo tipo ovviamente ho provato a sperimentare quello che mi interessava di più era la parte lunga dell'ottica ovviamente perché quanto alla parte grandangolare ne ho già tante lavorando con delle lunghezze focali di 150 mm che poi ovviamente su APS-C viene moltiplicato quindi è molto più di un 150 è gradevolissimo perché se c'è qualcosa di lontano posso zoomare e catturarlo immediatamente senza che mi scappi quindi da quel punto di vista è veramente molto molto figo andare in giro con un'ottica di questo tipo ti dà una sensazione di potere perché vedi una cosa lontana trac, inquadri, sistemi, pum, scatti subito è molto molto bello tuttavia il risultato, le fotografie che mi sono portato a casa non mi hanno soddisfatto ma perché? non per colpa della macchina non per colpa della macchina quanto piuttosto per il tipo di utilizzo perché utilizzando un'ottica di questo tipo sulla parte lunga mi sono reso conto di come non avendo tante ottiche lunghe io personalmente perché le uso poco nel mio lavoro non sono tanto avvezzo al loro utilizzo e quindi tendo a fare la cosa più facile tendo a dire ok il mio soggetto è lontano zoomo avanti secondo me questo non dico che sia sbagliato va bene se stiamo facendo natura c'è lo stambecco cosa vuoi fare non zoomi certo che zoomi però secondo me non è l'utilizzo più edificante possibile di un'ottica come questa perché secondo me la cosa più bella che noi possiamo fare con un'ottica lunga è andare a mettere in parallasse due soggetti quindi abbiamo un soggetto certo non vicino abbiamo un soggetto abbastanza lontano ma poi abbiamo un secondo soggetto lontanissimo più indietro e andiamo a metterli in parallasse in maniera tale che si completino questa secondo me è la cosa veramente bella da fare con un'ottica con un'escursione abbastanza lunga ed è una cosa che se riuscirò proverò a sperimentare e cercherò di portarvi nei prossimi episodi sperando di riuscirci perché devo anche trovare un soggetto giusto bene amici con questo penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire per quanto riguarda le mie prime impressioni su quest'ottica ripeto è un'ottica che probabilmente io non acquisterei però trovandomela già nel kit sicuramente un utilizzo glielo si trova perché la versatilità è veramente massima detto questo io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale fatemi delle domande perché io poi vi rispondo con degli shorts verticali anche quindi se vi iscrivete adesso poi non andate a perdervi le risposte alle vostre domande fatemi le domande finché ho questa strumentazione in mio possesso perché poi la restituisco e quindi dovrò rispondervi a memoria e sarà molto meno bello quindi chiedetemi le cose adesso così vi rispondo subito signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi io e Canon vi diamo appuntamento al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti